weee non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da yeee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide di palla otto ci chiedono di danzare in tre location ad affetto arcobaleno all'autobus della spiaggia e al lago delle canoe per quanto riguarda affetto arcobaleno siamo esattamente nella spiaggetta sotto siepi da grifoglio tra pantano e siepi quindi ragazzi molto molto facile capire dalla mappa quale sia posto numero uno fatto per quanto riguarda invece la location numero due l'autobus sulla spiaggia è molto semplice come vedete siamo a foschi fumaioli e l'autobus in questione è proprio l'unico che troverete bello adagiato sulla spiaggia quindi ci possiamo tranquillamente andare sopra il nostro balletto lo facciamo autobus numero due fatto siamo arrivati al terzo ed ultimo posto dove ballare ragazzi il lago delle canoe molto semplice siamo vicino a moli molesti ed è proprio l'unico laghetto che esiste e che c'è quindi senza indugiare possiamo tranquillamente atterrare vicino alle canoe ci facciamo il nostro balletto lago numero 3 completato io vi ringrazio per avere guardato anche questo video ce ne sono tanti altri per le sfide uscite con la patch 11.40 sul canale mi raccomando andate a vederli noi siamo in live su twitch ciao ciao